Ciao a tutti, ecco qua con un nuovo video in collaborazione con il sito BonPrettyStore. Come sempre qui sotto in infobox vi metto il link ai video collaborazioni precedenti e il link ai prodotti che vedrete in questo video. Prima di farvi vedere i prodotti voglio parlarvi un po' del sito. Questo sito è un sito cinese e ha tantissimi prodotti di vario tipo. I prezzi sono molto bassi, non si pagano le spese di spedizione, l'imballaggio dei prodotti è davvero molto accurato e l'unico problema è che i prodotti ad arrivare ci mettono dai 25 a 35 giorni. Io comunque ho acquistato anche con i miei soldi da questo sito e mi sono sempre trovata benissimo. Ma passiamo ai prodotti che mi sono stati inviati questa volta. Ho scelto come prima cosa un smalto base per le unghie, un smalto semplice e questo qui dovrebbe avere la particolarità di avere all'interno degli oli, infatti si chiama smalto rinforzante con olio. Per il momento lo utilizzo soltanto una volta e posso dirvi che la ciocatura è abbastanza veloce e ha un odore davvero chimichissimo, quindi di naturale diciamo non ha niente. Sui unghie risulta trasparente come qualsiasi base per unghie. Poi passiamo agli altri prodotti che ho scelto che sono degli smalti semipermanenti, quindi da utilizzare con la lampada UV e ho scelto uno smalto termico semipermanente che appunto cambia colore al calore. La confezione di questi prodotti mi piace davvero molto, ha una base di vetro colorato e il pennellino è molto buono. All'interno ha 10 ml di prodotto e la colorazione che ho scelto io è al freddo un arancione, mentre al caldo diventa giallo. All'interno ha anche tantissimi micro glitter che danno dei riflessi bellissimi e anche dei glitter un po' più grandi che sono argento che riflessono la luce. Il prodotto mi sembra un po' pastoso all'interno della confezione ma comunque è molto semplice stenderlo. Ve lo faccio vedere applicato sulla tip perché mi sembra un colore più che alto estivo quindi non avevo voglia di applicarlo sulle unghie. Comunque faccio una prima passata e vedete che è abbastanza coprente, metto poi la lampada a catalizzare due minuti. Faccio poi la seconda passata che rende il colore più uniforme. Quando è al freddo che diventa arancione mi piace davvero tantissimo, è un arancione estivo con questi riflessi che diventano quasi dorati, bellissimo, mentre al caldo diventa questo giallo acceso fluo. A me non piace tanto il giallo sulle unghie però penso che d'estate sarà molto carino. E poi come ultimo prodotto sono due semiperimenti che sono venduti insieme e io li trovo bellissimi per il periodo natalizio. La confezione è identica a quella dell'osmalto termico, questa volta sono un color rosso con tantissimi glitter all'interno e si chiama Red Sparkle Gel, è il numero 08. E quell'altro un doro con dei riflessi che si chiama Crystal Glitter Gel, è il numero 05. Questi due semiperimenti ve li faccio vedere applicati su mia madre mentre li stavo facendo la ricostruzione. Quindi ho fatto tutto quanto il procedimento della ricostruzione base bombatura e dopo la bombatura una volta limata sono andata ad applicare questi due colori. Il semiperimenti rosso con una prima passata è molto coprente ma necessita di una seconda passata per uniformare il colore, rimangono sulle unghie tantissimi glitter che riflettono tantissimo la luce. Lo smalto oro invece necessita almeno di tre passate, con una prima passata è molto trasparente, si intravede sotto tanto all'unghia, mentre con la seconda già un po' il colore si intensifica e con la terza abbiamo comunque un'unghia ben uniforme. Le unghie con il semiperimenti oro trovo che siano un po' spoglie, quindi penso che andrebbe utilizzato come base per una nail art o comunque aggiungendoci sopra qualcosa, magari uno strass o comunque una decorazione con lo semiperimenti rosso, perché così mi sembra un po' incompleta. Comunque trovo bellissimi entrambi i colori. Ovviamente tra una passata e l'altra faccio catalizzare la lampada per 2-3 minuti, l'ultima passata la faccio catalizzare 3 minuti e poi applico sopra un top coat. E questo qui è tutto anche per questo prodotto. Per qualsiasi domanda potete scrivermi sui miei commenti, spero tanto che questo video vi sia sottile in qualche modo, ringrazio come sempre il sito per avermi inviato questi prodotti. Un grosso bacio e alla prossima, ciao! Ciao! Ciao!